Ciao sono Max di Modelli di Successo. Oggi parliamo di Steve Jobs, però prima di addentrarci nella mente di questo grande imprenditore visionario, tramite le nuove frasi motivazionali dette nel corso della sua carriera, dobbiamo capire una cosa fondamentale. Come possiamo, tramite i modelli di successo, analizzare i comportamenti e strategie vincenti delle persone di successo? Questo è il fulcro di tutto il progetto di Modelli di Successo. Dobbiamo capire una cosa fondamentale. Per estrapolare quei comportamenti e quelle strategie vincenti, Modelli di Successo non fa altro che analizzare le opere, i detti, le frasi, i comportamenti e soprattutto i risultati che hanno ottenuto queste persone. Ribadiamo una cosa fondamentale, che le persone di successo sono ovunque, non è soltanto chi è ricco, chi ha fama, ma anche persone comuni che hanno raggiunto obiettivi importanti e sono tantissime nel mondo. Lo scopo quindi di Modelli di Successo è capire e carpire quali sono i pensieri e i comportamenti che queste persone adottano per raggiungerne quei risultati. Perché questo? Perché il risultato raggiunto dalla persona di successo, e quindi un risultato di successo, non è altro che la fase finale di un processo che è incominciato nella mente di questa persona, tramite proprio quei pensieri, quei modi di fare, quei modi di agire, che hanno poi sviluppato un processo interno che ha poi dato come risultato l'obiettivo raggiunto. Perché è proprio lì il segreto delle persone di successo. Non è tanto l'aver raggiunto l'obiettivo, ma quanto ciò che ha portato queste persone a raggiungere quell'obiettivo. La domanda è come sono arrivati a quell'obiettivo specifico, come sono arrivati a raggiungere quel risultato, perché sono diventate persone così straordinarie, come ad esempio in questo caso Steve Jobs, come hanno fatto, cosa pensano, cosa hanno pensato nel caso di Steve. Queste sono le domande che dobbiamo porci e queste sono le domande a cui Modelli di Successo tenta di rispondere. E lo fa analizzando una casistica enorme di persone di successo, persone molto famose, persone meno famose, persone comuni, il vicino di casa, chiunque abbia raggiunto risultati di eccellenza. Oggi analizziamo Steve Jobs. Ripercorriamo tramite nove frasi motivazionali di Steve Jobs che spaziano dalla crescita personale alla leadership all'imprenditoria. Ripercorriamo la sua vita cercando di capire quali sono quei comportamenti che l'hanno portato a essere uno degli imprenditori visionari più grandi di sempre. Incominciamo col dire chi era Steve Jobs e chi non era. Possiamo definire Steve come un leader, un motivatore, un inventore, un genio o semplicemente come uno studente che voleva realizzare i propri sogni. Unico nel suo genere è stato colui che ha dato una scorsa enorme all'era digitale tecnologica e ha fatto balzare la stessa di parecchi anni avanti. È stato cofondatore di Apple e Pixar ed è sicuramente stata una persona non comune. Apprezzato da molti ma anche criticato soprattutto per il suo carattere molto particolare, Steve era una persona che era convinta di poter cambiare il mondo e la sua convinzione si è trasformata in realtà perché il mondo l'ha cambiato davvero. Queste nuove frasi motivazionali che analizzeremo a breve vanno ricordate, vanno fissate nella mente e soprattutto vanno messe in pratica. Iniziamo con la prima frase Potrei fare tante altre cose nella vita ma il Macintosh cambierà il mondo. Io ci credo e ho scelto di avere intorno persone che ci credono. Questo era l'approccio di Steve Jobs al prodotto. In questa frase parliamo più che altro di leadership e imprenditoria. Steve era convinto, come abbiamo già detto, che poteva cambiare il mondo con i suoi prodotti e lo ha cambiato davvero alla fine. Steve rappresenta un po' il potere delle convinzioni che possono diventare realtà. Tuttavia è consapevole del fatto che non può cambiare il mondo da solo. Quindi lui ci tiene a circondarsi di persone che possono cambiare il mondo insieme a lui. Persone ricche, persone di talento, persone creative che possono aiutarlo nella realizzazione dei suoi sogni e della sua visione. Lui era consapevole che un team del genere, di talento creativo, di pirati come li definiva lui, con un leader del genere, cioè lui stesso, avrebbe potuto cambiare il mondo e alla fine lo ha fatto davvero. Frase numero 2 Una buona metà di ciò che distingue l'imprenditore di successo da quello che fallisce è la semplice perseveranza. Ti impegni così tanto, investi tutto te stesso in questa impresa e molti si arrendono nei momenti difficili. Non li biasimo. È un lavoro duro che possa avvolgerti la vita. A motivarti deve essere un'idea o un problema da risolvere o un torto da riparare. Qui parliamo fondamentalmente dei due segreti del successo che sono passione e perseveranza. Se volete raggiungere il successo in un vostro progetto, obiettivo, desiderio, queste due componenti sono fondamentali per raggiungerlo. Da Richard Branson a Elon Musk a Donald Trump, tutti all'unisono parlano di passione per quello che si fa, quindi di amore per quello che si fa e di perseveranza. Sono due lati della stessa medaglia. La passione fa da motore nel raggiungimento del vostro obiettivo perché vi consente e l'eccitazione che voi sentite quando fate quello che amate. Vi fa alzare presto la mattina, vi fa andare a letto tardi la sera, non vi fa stancare. Quindi la passione, l'amore per quello che si fa è fondamentale e dovete, se volete avere successo nel vostro progetto, dovete seguire il vostro cuore e quindi fare compassione a quello che fate, amare quello che fate. La perseveranza invece è la seconda chiave del successo. A cosa serve? Chiaramente nel vostro percorso del successo, di qualunque progetto si parli, troverete degli ostacoli, troverete delle resistenze, troverete dei problemi e dei muri. La perseveranza vi consente di sfondare quei muri, di continuare nonostante tutto. Perché ci potete giurare, troverete degli ostacoli, dei problemi, dei fallimenti, degli insuccessi che vi butteranno giù. Qual è il segreto di tutte le persone di successo che ho analizzato personalmente, studiando centinaia di migliaia di articoli, leggendo giornali, leggendo libri, vedendo video? Qual è il segreto proprio comune di tutte queste persone? È la perseveranza. Semplicemente queste persone, quando gli arriva la batosta, perché arriva, non si fermano. Continuano fin quando non hanno raggiunto l'obiettivo. Questo è praticamente quello che accomuna tutte le persone di successo. Perché persona di successo cosa vuol dire? Vuol dire che hanno raggiunto il successo in un determinato ambito, in un determinato obiettivo, in un determinato progetto, in un sogno. Il filo conduttore è la perseveranza. Quindi possiamo dire che passione e perseveranza sono entrambe componenti fondamentali per raggiungere il successo, in qualunque cosa voi vogliate raggiungere. Frase numero 3. Apple dovrebbe essere il genere di posto in cui chiunque può andare dall'amministratore delegato e dargli le sue idee. Questo qui siamo prettamente nel campo dell'imprenditoria, quindi ci rivolgiamo a tutti gli imprenditori in ascolto. Questo era lo stile di management di Steve Jobs. voleva creare un ambiente. Questo proprio si evince dalle sue opere, dalle opere di persone che hanno lavorato a stretto contatto con lui. Si evince. Lui voleva creare un ambiente in cui chiunque fosse in grado di poter andare dall'amministratore delegato. Quindi pensate, immaginate voi, qui in Italia non lo vedo un approccio del genere e mi ci metto in prima persona perché mi ricordo che quando lavoravo nella mia azienda, che era un ufficio, una grande azienda, una multinazionale, quando lavoravo lì parlare con l'amministratore delegato si andava a parlare soltanto per problemi molto 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 grossi e anzi si evitava di andare dall'amministratore delegato. Quasi con paura non tutti potevano parlare con lui. Soltanto persone di un certo livello, di un certo tipo, i manager sicuramente o persone di alto livello nella scala aziendale. E questo chiaramente va proprio in contraposizione con il pensiero di Steve che invece era quello più giusto, più corretto perché chiunque poteva esporre, chiunque deve avere la possibilità, anche l'ultimo arrivato deve avere la possibilità di andare dall'amministratore delegato, dal capo e dire, esporre le sue idee che magari possono essere idee vincenti. Questo perché Steve era consapevole che le buone idee venivano custodite, si trovavano nelle persone da cui meno te l'aspetti. Quindi questo è un consiglio che implicitamente da Steve, nei vostri business cercate di avere questo atteggiamento, questa apertura mentale perché dire io sono il capo e quindi creare una distanza con indipendenti non fa bene chiaramente. Invece avere un approccio comunicativo completo e aperto e quasi allo stesso livello più orizzontale consente di sviluppare l'azienda al meglio, l'azienda del progetto, anche un mini market, anche una cosa molto piccola, anche il vostro negozietto può diventare un punto di riferimento sia per i dipendenti stessi che magari vengono al lavoro con più voglia anche, sia per i clienti perché percepiscono che è un ambiente diverso, aperto, magari giovanile anche, un ambiente comunque di collaborativo, di condivisione. Questo non può far altro che bene all'azienda piccola, media e grande. Frasi numero 4 Vuoi vendere acqua zuccherata per il resto della vita oppure vuoi avere una possibilità di cambiare il mondo? Con questa frase Jobs riuscì a convincere John Sculley a diventare amministratore delegato di Apple e lo è stato dal 1983 al 1993. Questo era l'approccio di Steve, cioè Steve era convinto di poter cambiare il mondo, voleva persone che potevano cambiare il mondo insieme a lui e faceva percepire questo senso di grandezza, questa missione enorme che aveva un impatto sul mondo enorme lo faceva percepire anche a chi lavorava con lui ed era la cosa fondamentale per cui tutti i team che hanno lavorato con Steve hanno avuto un grande successo. Frasi numero 5 Una piccola squadra di grandi campioni può stracciare una squadra enorme composta da giocatori mediocri. Per Steve era fondamentale, l'abbiamo ripetuto già diverse volte, circondarsi di persone con le palle, coraggiose, anticonformiste, ribelli, creative e di talento. La questione, e Steve ne era consapevole, è che tutte queste qualità si trovano in persone fuori dal comune. Quindi perché è così importante circondarsi di persone così, persone fuori dal comune, pirati? Per quale motivo? Perché queste persone sono il tipo di persone che corrono dei rischi, che ti parlano in faccia, che vi fanno riflettere e che con il loro atteggiamento migliorano l'azienda intera. Anche se a prima vista può sembrare che non sia così, queste persone vi faranno incazzare, metteranno in discussione ogni cosa che dite, vi stimoleranno a fare meglio e ad essere meglio. In definitiva renderanno vincenti voi e la vostra azienda. Qui parliamo chiaramente di imprenditoria e di leadership. Frasi numero 6 Il mio compito non è essere accomodante, esplonare i nostri bravissimi dipendenti a migliorarsi sempre, a immaginare nuove possibilità in modo aggressivo e costruire un team di dirigenti che possa succedermi. Ed è questo che cerco di fare. Qui siamo pienamente in contesto leadership. Steve era così, l'approccio che viveva era questo. Sicuramente aveva un carattere, scusate il termine, di merda ed è famoso anche per famigerato anche per questo. Però l'approccio era quello corretto, era spronare chi lavorava con lui a dare il massimo. Teneva in particolare a trasferire anche le sue competenze, perché questo è il segreto di un team forte, di un team vincente. Se il leader riesce a essere collaborativo, ed è un leader quindi, e quindi riesce a trasferire le proprie competenze, il proprio amore, la propria visione al team, ecco che il team diventa un'entità unica. E il compito del leader è proprio questo, mantenere insieme il team e farlo progredire, farlo migliorare ogni singola componente del team. Questo deve essere chiaramente l'obiettivo di ogni leader, di ogni vero leader che si rispetti all'interno di un team, di un team vincente. Frase numero 7. Non si deve parlare di profitti, ma di esperienze emotive. Per Steve la Apple non è mai stata una questione di soldi. Per Steve la Apple era un mezzo per realizzare la sua visione. Voleva creare all'interno di Apple un ambiente in cui tutti potessero sentirsi una grande famiglia. Cercava di organizzare, con tutte le difficoltà del caso, l'azienda, in maniera tale che ogni singolo dipendente si sentisse valorizzato al meglio all'interno del suo contesto. E questo è una cosa importantissima per tutte le aziende del mondo. Per Steve quindi il denaro era soltanto una naturale conseguenza del suo lavoro e del lavoro di ogni singolo dipendente, dove ognuno faceva la sua parte per raggiungere un obiettivo comune. Frase numero 8. All'epoca non lo capivo, ma farmi licenziare da Apple è stata la cosa migliore che potesse succedermi. Alla pesantezza del successo si è sostituita la leggerezza di poter ricominciare da capo, con meno certezze su ogni cosa. Mi ha dato la libertà di entrare in uno dei periodi più creativi della mia vita. Qui parliamo di crescita personale e in particolare di fallimenti. Abbiamo spesso ripetuto anche in modelli di successo che i fallimenti sono una parte essenziale del processo del successo, scusate il gioco di parole. Perché? Perché il fallimento ti consente di apprendere tantissime lezioni, di riparare gli errori e di fare le cose al meglio. A quanti di noi è capitato che magari, col seno di poi chiaramente, dopo un fallimento che noi reputavamo tale, un evento negativo, un qualcosa che ci è successo nella vita, quanti di noi sono riusciti dopo quell'evento a essere persone migliori, a risollevarsi con più forza, a essere più forti. A quanti è capitato? A me è capitato tante volte e sinceramente sono arrivato alla conclusione che un evento negativo non è mai negativo al 100%, c'è sempre un risvolto positivo. Quando anche questo risvolto sia un puntino e sia la forza che ne deriva da questo evento negativo, ogni fallimento ha in sé il seme di un successo equivalente, come diceva il grande Napoleon Hill. Anche il licenziamento di Steve può considerarsi un fallimento epocale. Eppure lui ha sfruttato questo fallimento per stimolare ancora di più la sua creatività. Ha fondato in questo periodo la Next e la Pixar, di cui l'ultima è stata una delle aziende più grandi, è una delle aziende più grandi nel settore dell'animazione del momento. Quindi comunque dal fallimento è nato qualcosa di bellissimo e di meraviglioso. Quindi l'invito che vi faccio è da adesso in poi di prendere i fallimenti non come sconfitte personali, ma come sconfitte temporanee, perché ogni sconfitta può essere rigirata in modo tale da farvi apprendere una lezione. Veniamo all'ultima frase, la numero 9. Non è soltanto un lavoro, è un viaggio. Non dimentichiamolo mai. I vostri clienti sognano una vita migliore e più felice. Non sforzatevi di vendere prodotti, ma di arricchire le loro vite. Qui siamo in contesto di nuovo di business, di imprenditoria. Solo in tempi recenti stiamo incominciando a sentire un marketing che è più orientato al valore, ad arricchire la vita della gente, al creare valore per la gente, per le persone e quindi a migliorare la loro qualità della vita. Questo dovrebbe essere, ne abbiamo parlato anche in un video precedente, in un podcast precedente, dovrebbe essere il mantra di ogni azienda, dovrebbe essere la base di ogni azienda, perché ogni azienda ha una missione, ha dei valori dichiarati, poi da vedere se sono seguiti, però ha dei valori che hanno un impatto profondo ed enorme, dovrebbero averlo quantomeno, sulla vita della gente. Cioè migliorare la qualità della vita delle persone. Quindi voi, anche voi potete migliorare nel vostro piccolo, nei vostri business, nei vostri progetti, la qualità della vita delle persone. Steve da questo punto di vista era già avanti anni luce, già all'epoca rispetto ad oggi, perché lui aveva capito che è il segreto di ogni azienda dovrebbe essere quello, migliorare la qualità della vita, arricchire la vita della gente. E lui lo faceva chiaramente a modo suo, vendendo, creando dei prodotti che potessero veramente migliorare la qualità della vita delle persone in quel contesto. Nel caso degli iMac per esempio, dei Macintosh e dei Mac in generale, lui voleva che i suoi prodotti fossero fruibili anche dai bambini. Cosa voleva dire? Voleva dire che anche un bambino doveva poter utilizzare il Mac di Steve senza poter leggere il libretto di istruzioni. Quindi cercava di infondere nei suoi prodotti una semplicità tale di utilizzo che non mettesse in difficoltà l'utente finale, ma anzi che lo stimolasse all'utilizzo proprio stesso dei suoi prodotti. Ed era quello l'obiettivo di Steve. Il design, la semplicità, il tutto, rendere il tutto unico e irripetibile e fruibile da chiunque. Arricchire la vita della gente. Significa proprio questo. Siamo giunti al termine di questo nuovo appuntamento di Modri di Successo. Mi raccomando se il video o il podcast vi è piaciuto mi raccomando un pollice in su. Per l'articolo vi invito a leggerlo sul sito di Modri di Successo dove troverete il riassunto anche dei comportamenti vincenti, delle strategie di business e di leadership di questo articolo. Mi raccomando se avete curiosità, volete farmi qualche domanda, scrivetemi nei commenti o mandatemi un'email e con questo vi auguro davvero e sempre una vita piena di successo. Ciao e alla prossima!